Questa è una partita particolare sia per noi che per loro, loro si trovano in una situazione che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e questo sicuramente è dovuto alla nostra grande rimonta, noi abbiamo preparato nel migliore dei modi e cercheremo di dimostrare in campo quelle che sono le nostre qualità, è chiaro è una partita difficilissima contro una buona squadra, poi per quanto riguarda i difetti e i pregi insieme ai ragazzi abbiamo valutato come ogni squadra sicuramente delle problematiche come le abbiamo noi, però insomma da parte nostra c'è grande rispetto ma anche la consapevolezza di voler mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e possibilmente fare un risultato positivo. L'ultimo periodo abbiamo affrontato tutte le partite da dentro fuori e quindi secondo me anche questa sarà una di quelle. È chiaro che bisognerà avere la massima attenzione, il massimo rispetto per chi è una squadra che ha delle qualità, sia individuali che di squadra, è molto brava nelle palle inattive e proprio di questo abbiamo cercato con i ragazzi di prepararci al meglio anche per questa situazione e quindi insomma non credo ci sia troppa differenza per quanto riguarda noi l'interpretazione della gara che daremo anche domani a Benevento. Non ce ne sono, siamo convinti delle nostre qualità, sicuramente come diceva lei è una partita difficile, vedremo poi come si svilupperà, però noi sotto l'aspetto delle motivazioni dobbiamo pareggiare le loro ed essere pronti sia una battaglia che sia una partita da giocare sotto l'aspetto tecnico, io credo ragazzi a questo punto siano pronti a fare una grande prestazione perché così dovrà essere se vogliamo portare a casa un risultato. È sicuro che dentro a Gio dopo un turno di riposo è dovuto anche al fatto che lui aveva sempre giocato ma anche al fatto che era diffidato e quindi insomma cercheremo più che altro di mettere lui nelle condizioni che possa esprimere quelle che sono le sue qualità. Devo dire che la condizione fisica i ragazzi stanno discretamente, sicuramente siamo in un finale di campionato dove ci sarà anche il caldo che farà da una situazione che va valutata bene, però insomma sotto l'aspetto fisico stiamo bene, i ragazzi stanno bene, il finale di partita con Napoli abbiamo dimostrato ma soprattutto abbiamo dimostrato che questo è un gruppo che veramente si sta compattando, è un gruppo che sia chi gioca dall'inizio ma soprattutto chi entra si fa trovare pronto e questa deve diventare la nostra forza da qui alle partite che rimarranno da qui alla fine.